Luggeri, allora domani a Fano arriverà un Ministro della Repubblica e ci sarà anche un momento di confronto con la cittadinanza. Certo, arriverà il Ministro Bonisoli domani pomeriggio a Fano, è per noi motivo di grande orgoglio. Ci vedremo quindi per questa chiacchierata pubblica insieme al Ministro in Sala Verdi, presso il Teatro della Fortuna, in piazza 20 Settembre alle ore 17. Con lui naturalmente parleremo di tanti temi culturali, anche per il rilancio culturale della nostra città, ma soprattutto ci soffermeremo sulla questione dell'Isippo e la questione del teatro romano. Ecco, il Ministro è venuto alle cronache proprio sulla questione dell'Isippo, facendo un po' un filtro con il Getty Museum, quindi immagino che per i fanesi sia un momento di fargli qualche domanda anche diretta. Esattamente, domani oltre a parlare un pochino come candidata sindaca del programma culturale per la città, ho in serbo una serie di domande per il Ministro e spero di avere delle risposte più che soddisfacenti per tutti noi cittadini fanesi. Grazie. Grazie.